Mister Cerasi, siete partiti male, però la vittoria contro il San Benedetto magari è un punto di ripartenza per voi? Lo speriamo tutti, non ci aspettavamo sicuramente questo inizio. Abbiamo sofferto tutti insieme, però si è cominciato a vedere il valore della squadra, ma non abbiamo fatto assolutamente nulla. Quindi dobbiamo continuare testa bassa e continuare su quello che possiamo fare. Dopo Giulianova è ripartito qui dalla promozione, però con un progetto ambizioso, una maglia prestigiosa come quella della Sant'Egidiese. Sì, è contento pure di essere ripartito qua, perché al di là della categoria che è sempre una cosa importante, però aver trovato questa società, questo ambiente mi ha dato stimolo fino al primo giorno. Sono contento che ho fatto questa scelta, tuttora sono contento e sono sicuro che insieme ci toglieremo delle soddisfazioni. Il prossimo avversario è il piano della lente, un avversario difficile che ha fermato anche la capolista Guardiavomano. Guardiavomano, però voi avete giocatori giusti, è arrivato anche dal Cason che si è sbloccato subito, quindi avete una rosa importante anche per fare bene sabato. Sì, piano della lente non ha mai perso, sicuramente è partito bene, è una squadra che non molla, è una squadra che è libera mentalmente, quindi non ha nessun tipo di pressione, è una squadra che sta bene in campo. Poi per quanto riguarda i giocatori, l'ultimo che hai citato dal Cason, per noi non avevamo un vertice così, lo andavamo cercando e quindi ben vengono questi tipi di giocatori. Ci sono tanti giocatori che lei poi ha allenato in carriera, quindi come avere in gruppo giocatori con cui già ha avuto un rapporto prima e continua ad averlo adesso, stiamo inserendoli anche in un gruppo nuovo, in un contesto nuovo. Guarda, quando scelgo dei giocatori cerco di scegliere gli uomini, perché secondo me è fondamentale. Anche se sono arrivate queste sconfitte nelle prime partite, l'ambizione rimane comunque quella di un campionato di vertice? Noi non dobbiamo guardare, adesso non dobbiamo guardare niente, dobbiamo guardare partita dopo partita e cercare di far bene il più possibile.